Ma guarda qua, ma che modi sono questi? Lo so, le cattive abitudini sono difficili da cancellare, ma così non va. Anche oggi avete buttato un sacco di roba. Il cibo non si spreca, il cibo è vita. Anche il frigo è pieno zego. Vuol dire che ancora una volta avete fatto la spesa prendendo più del necessario. Adesso il cibo che non mangerete dove andrà a finire? Nella pattumiera. Nella pattumiera. E invece il cibo non si butta. Il cibo si? Mangia. Perché il cibo è? Buono. È vita, è vita, l'ho appena detto. Va bene, comunque adesso riposi, poi ne riparliamo. Quest'acqua che fa la beve? Se mi viene sete stanotte. Ah perché se non le viene sete che fa la butta? No, ci innaffio le piante domattina. Bravo, è così che la voglio. Perché l'acqua è... Fresca. È vita. È vita. È vita. Il cibo è vita. Non sprecarlo. Scusi, sì, lei torna pure domani. Certo. Scusi, è casa mia. Termina oggi la striscia quotidiana sportiva dell'attacco rosso diretto. Ci ritroveremo a settembre quando i campionati di calcio ma anche di altre competizioni avranno inizio. Abbiamo... Sono stati sette mesi, abbiamo registrato all'incirca 200 puntate con un complessivo di 20.000 visualizzazioni, forse qualcosa in più, qualcosa in meno. Abbiamo iniziato parlando della fase critica del Foggia Calcio, ci siamo spostati leggermente su altri orizzonti, la cestistica Sansevino e l'audace Cerignola, per poi ritornare carichi sulla rinascita della compagine Pugliese del calcio Foggia 1920 e in questi ultimissimi giorni un tuffo profondo in quello che è l'argomento principe, il calciomercato. Ritorneremo a settembre, ritorneremo più forti che mai, pronti a tuffarci, a raccogliere la notizia, a dare un'anteprima tra le pagine del nostro giornale, darla in un modo originale che può catturare il lettore cartaceo, ma anche digitale, lo faremo con una veste sportiva diversa, lo faremo per portare alla luce tante realtà del nostro territorio. Come abbiamo sempre fatto, ci rivedremo a settembre, ma io vi do appuntamento oggi a Bieste, ultima giornata del Beach Soccer con sponsor di rilevo e ci sarà anche Sky Sport. Ci vediamo lì.